salve a tutti oggi vi faccio vedere come lavare la giacca in outdoor che è questa che mi sembra tanto bella però una lavata ci sta bene che detersivo usiamo? useremo 50 ml di detersivo da four mill se avete lo smog quelle cose lì la povere l'inquinamento la candeggina delicata la mettiamo le mettiamo una pallina intera la morbidente della dussi il profumante della ormia e l'anticalcare io l'altra giacca così uguale non ce ne ho non ne ho ho solamente questa per lavare solamente questa bisogna tenere aperto la cenniera perché sennò la centrifuga non parte quindi carichiamo la nostra giacca aspetta dobbiamo controllare prima importantissimo controllate le tasche ecco controllate le tasche adesso possiamo caricare la nostra amica giacca tac e adesso dosiamo il detersivo ecco qua 50 ml di detersivo da four mill una pallina di candeggina delicata ecco 10 le carichiamo dentro così tac adesso dosiamo la morbidente ecco voi ho dosato fino a max la morbidente della dussi adesso introduciamo il profumante della romia un tappino di anticalcare e adesso scegliamo programma che appunto è outdoor care quindi outdoor care la temperatura può arrivare fino a 40 ma noi facciamo i 30 la veloci arriva fino a tre risciacqui e possiamo andare la velocità va benissimo a 1200 giri quanto riguarda l'auver zero attacca il 60 di performa perché non abbiamo portato su avanzone con senza che rafforzare il battigio adesso quando partiamo a caricare l'acqua buttiamo l'anticalcare e ecco fatto ci vediamo con i prossimi video ciao ciao